Ciao ragazzi, di nuovo benvenuti su Learning Latino. Parliamo oggi dei sostantivi del terzo gruppo della terza declinazione. Allora, io ho suddiviso la terza declinazione in tre gruppi, in realtà per comodità vostra, nel senso che è molto antipatico quando cercate un argomento dover andare a riportare indietro 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 il video e ricercarlo, quindi ho pensato di suddividerlo. In realtà dovrebbe essere un video unico, infatti se avete notato sono video piccolini, per cui vi consiglio poi di guardarli tutti e tre di fila, nell'interezza, in modo che possiate avere una panoramica generale sulla terza declinazione. A questo video ne seguirò un altro con le fantastiche particolarità della terza declinazione, che sono molto importanti, però risultano un po' ostiche, ho ricevuto tanti messaggi, anche i miei studenti spesso mi dicono che faticano molto a ricordarsele, quindi cercherò di schematizzarle nel miglior modo possibile. Detto questo, vi spiego subito i nomi del terzo gruppo, della terza declinazione. Fermo restando che vi invito a guardare anche il primo e il secondo gruppo, che sono le due lezioni precedenti. Dunque, al terzo gruppo appartengono i nomi neutri, solo neutri, ma non vi dimenticate che i nomi neutri stavano anche negli altri gruppi e potete andare tranquillamente a riguardare. Dunque, i nomi neutri del terzo gruppo sono i nomi che al nominativo singolare escono in al oppure in ar oppure in e, per cui li riconoscete abbastanza facilmente se li trovate al nominativo, certo. Se poi invece magari sulla versione trovate animalis, voi non sapete che esce in al nominativo, quindi vi potrebbe dare un po' di filo da torcere e poi ricostruire il nominativo di questi sostantivi. Per questo è importante conoscerne a memoria il più possibile. Vi farò anche una lezione su come risalire al nominativo e avere quasi sempre la certezza di non stare sbagliando. Allora, cominciamo ad analizzare un nome che esce in al nome neutro, quindi animal, animalis, che vuol dire animale, ed è animal, animalis, animali, animal, animal, animali. Allora, analizziamo. Casiretti, come in tutti i neutri, sono uguali. Ricordiamo che i casiretti sono il nominativo, l'accusativo e il vocativo, ovviamente sia singolare che plurale. La particolarità è che il genitivo è sempre in is, il dativo è sempre in i, ma l'ablativo invece di essere in i questa volta è in i. Quindi si potrebbe confondere con il dativo singolare. Vediamo il plurale che è animalia, animalium, animalibus, animalia, animalia, animalibus. Allora, qui diciamo che è molto difficile sbagliarsi perché il plurale dei casiretti è in ia. Genitivo singolare è in ium. Perché? Non c'è un motivo. Si è deciso che il terzo gruppo abbia il genitivo plurale in ium come il secondo gruppo. Andiamo a vedere adesso un nome in ar, sempre, ricordate, sono sempre neutri. Lacunar, lacunaris, il soffitto. Lacunar, lacunaris, lacunari, lacunar, 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 casiretti, uguali al nominativo, lacunari, ablativo sempre in i. Lacunaria, lacunarium, lacunaribus, lacunaria, lacunaria, lacunaribus, senza perdere tempo. Ovviamente, ovviamente sono, vedete, si comporta esattamente allo stesso modo dei nominal. Questi tre si comportano allo stesso modo. Quindi, genitivo plurale, sempre in ium, casiretti in ia. E adesso vediamo un nome in e. E poi c'è lo specchietto. Mare, maris, che è il mare. Allora, mare, maris, mari, mare, mare, mari. Qui diciamo l'unica cosa un po' antipatica è che la e la potete confondere con altre cose. Però se voi sapete che comunque mare è un nome neutro e che al nominativo fa mare, perché io sul vocabolario me lo andrò a cercare proprio così. Mare, e lo trovo. Maria, marium, maribus. Maria, maria, maribus. Quindi vedete che è assolutamente identico e qui c'è lo specchietto. I sostantivi che appartengono a questo gruppo, cioè il terzo della terza declinazione, hanno le seguenti caratteristiche. Questo ricopiatevelo sul quaderno. Ablativo singolare in i e di solito negli altri gruppi era in e. Genitivo plurale in ium, come i sostantivi del secondo gruppo. Nominativo, accusativo, vocativo, plurale in ia. Grazie a tutti.